All right guys, good news and bad news. We got Everett as our insider, but he'll bail if we won't subscribe. So, guys, the subscription button, go get it! Conosciuta anche come Sydney, la terza donna dopo Clover e Bonnie. L'Australiana dei capelli blu aveva deciso di abbandonare l'Oceania e la sua crew, i Dingos, per unirsi alla Payday Gang. E non appena arrivata alla safe house viene folgorata dal sex appeal di Dallas, direte voi? E invece no, Wolf. E viceversa, ovviamente. Non è una cosa lampante per chi gioca a Payday, ma è come nelle storie d'amore, no? Bisogna saper leggere tra le righe. Dopo tutto il casino con Hakan sorprende il fatto che Bane voglia di nuovo fare affari con l'elefante, ma con Garrett scatenato è necessario avere più alleati possibili. Aggiungiamoci la possibilità di mettere mano su un oggetto di altissima tecnologia. Simmons aveva sempre avuto contatti diretti con i bikers dell'Overkill MC, la stessa organizzazione criminale alla quale Dallas e Sochi avevano messo i bastoni tra le ruote numerose volte. Bane però stavolta aveva bisogno di una talpa, quindi in accordo con il membro del congresso fa l'offerta della vita a Tom Bishop, ovvero Rust, entrare ufficialmente nella banda. Senza pensarci due volte quest'ultimo accetta e massacra i suoi fratelli come prova di lealtà alla Payday Gang, il tutto davanti agli occhi dell'elefante. Essendo però sprovvisto di maschera, ci penserà un suo vecchio amico a fornirgliela, Dallas, esattamente lo stesso nome inciso sul proiettile che porta al collo l'ex biker. Ma il tradimento ha sempre un prezzo. I bikers infatti prendono in ostaggio un meccanico amico di Rust, Mike, per attirarlo in una trappola. Con la Payday Gang al suo fianco, Mike viene salvato e finalmente si può procedere con la vera rapina. Su un treno merci in movimento, gli Eyesters devono affrontare decine di poliziotti e un biker corazzato per individuare e rubare il BCI Helmet. Un casco high-tech che dà la possibilità di pilotare da remoto avanzate armi da guerra. Un oggetto che vale davvero milioni con il giusto compratore. Essendo però arrivati a 16 membri effettivi, la lavanderia a gettoni cominciava a stare un po' stretta. Quindi Hoxton decide di darle fuoco e trasferire tutto il gruppo in una base molto più grande, dove ognuno può avere il suo spazio e organizzare al meglio i colpi. Per farlo, contatta il suo vecchio maggiordomo Alston, che subito si adopera per rendere il nuovo rifugio il più accogliente possibile. E' tempo di festeggiamenti di ogni tipo nella nuova safe house, che però non durano molto. Henry Carter, del Dipartimento di Sicurezza Nazionale, informa Garrett della messa a punto di nuove unità speciali, per fermare definitivamente la Payday Gang. Gli Zil, in combo con soldati veterani che fungeranno da medici di combattimento. Dopo questa sorpresa poco gradita, è di nuovo tempo di rafforzarsi per la gang, tramite nuove armi fornite dal solito Gage. E a proposito di traffico di armi, avviene un'altra cosa spiacevole. Un carico della macellaia diretto a Miami viene fatto saltare, insieme ai suoi collaboratori. La foto del cadavere di uno di essi viene inviata alla donna, con una dedica speciale. I Sosa dicono di stare alla larga. Decisa a vendicarsi, chiama Bane, il quale invia subito Dallas, Chains, Giro e Sidney per colpire il cartello della droga. Un personaggio però si fa avanti, dicendo di avere informazioni preziose sul caso. Tony Montana, anche conosciuto come Scarface. Sa infatti l'identità di chi guida ora i Sosa, Ernesto, che vuole uccidere con le proprie mani, e dice di conoscere a memoria la mappatura della sua villa. Ovviamente, come per Jacket, tutti capiscono che non si tratta del vero Tony Montana, ma le sue movenze e la sua esperienza fanno presagire che farà la differenza. Ucciso Ernesto e vendicata quindi la macellaia, Scarface riceverà una stanza tutta sua all'interno della safe house, ma la mente della crew rimane un po' scossa nello scoprire delle copie dei quadri che avevano già visto al McKendrick Museum, quando avevano rubato il diamante. Si arriva quindi a dicembre 2016, e sapete tutti cosa significa questo, Natale con Vlad, o meglio con Arudin. Questa volta la gang dovrà irrompere in un centro commerciale dove suo cognato, ovviamente ubriaco, ha nascosto la cocaina, dove esattamente? All'interno di vari oggetti in vari negozi, ma non ricordandosi l'ubicazione precisa, la banda dovrà interrogarlo anche con le cattive maniere per estraporargli questa informazione. Il tutto si concluderà con l'estrazione dell'intero albero di Natale, collocato al centro dell'edificio. Dopo poco più di un mese di riposo, a inizio febbraio 2017, John Wick torna a far parlare di sé. Dei suoi vecchi contatti lo chiamano per affari riguardo il Continental Hotel, la mecca del crimine. Bane è subito pronto a aiutare quella che ormai è diventata la sua famiglia, interessato anche alla valuta usata in quel posto, i Continental Coins. Prima di poter parlare di affari, però, è necessario salvare Sharon, il concierge del rinomato hotel, braccato da dei gangster a Brooklyn, a causa di un pacco prezioso in suo possesso. Il Continental apre a tutta la payday gang dopo questo salvataggio, e Sharon vuole subito ripagare il debito coi suoi nuovi alleati. Indirizza infatti Bane a una raccolta fondi esclusivissima, organizzata dal sindaco in persona, Robert Bob McKendrick, su uno yacht. Imbarcazione appartenente all'avvocato dello stesso sindaco, Ethan Powell, e sulla quale è nascosto un quantitativo inimmaginabile di denaro fraudolento proveniente dai suoi sponsor. Avendo ostacolato i loro affari ben più di una volta, dopo aver ricevuto la carica solamente grazie al loro aiuto tramite giorno dell'elezione, la banda svolge ben volentieri il compito, rubare tutto il denaro in questione. Sharon però rivela anche la presenza di un server, sul quale sono presenti tutti i dati dei conti esteri del sindaco. Detto fatto, il caro amico Bob si ritrova spennato e John Wick può tornare con la testa agli affari della gang. Accade però un evento insolito, Vlad in visita alla safe house. Guai in vista direte voi, non direttamente stavolta. L'ucraino infatti riporta quanto sentito da voci di corridoio, l'imminente arrivo di qualcosa barra qualcuno contro la crew, e vuole sapere se quest'ultima sa di cosa sta parlando. Dragan diventa improvvisamente distante, stando molto più frequentemente al telefono, parlando però in croato. E intanto, una misteriosa lettera viene recapitata presso la safe house. Esther Tate. Si crea quindi una situazione tesa in casa Aisters, ma Giro fa un discorso sensato. Dice che tutto questo ha a che fare con Locke, e che il sudo africano saprà guidare la banda verso la verità. Locke infatti fornisce il dove e il quando intercettare un agente di questo nemico ancora sconosciuto. Bane quindi manda i suoi a New York per investigare, e qui si ripete un fatto che tutti pensavano fosse irripetibile. L'uomo a cui danno la caccia è Matt Rosco, il quale appena riconosce i suoi ex colleghi, prende e scappa con un furgone. Heat Street 2.0. Da non crederci davvero, Esther Tate è infatti l'anagramma di Heat Street, qualcuno aveva provato ad avvisarli. Matt verrà poi di nuovo catturato, ma stavolta verrà trasportato al rifugio per un interrogatorio con i fiocchi. Wolf, Jacket e Giro non sono certo tre figure che le mandano a dire. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Anche per quest'oggi è tutto, regà, mettete un mi piace, commentate e iscrivetevi attivando la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Everett. Ciao da Everett.